Grazie Presidente, molto brevemente è per dare la giusta dignità alla consulta cittadina permanente per i diritti alle persone con disabilità, cambiando quanto era scritto nel piano sociale con la nuova denominazione e anche inserendo quello che abbiamo predisposto con la delibera che abbiamo approvato a giugno, l'11 giugno mi sembra, di nuovo regolamento delle consulte, inserendo anche l'ufficio di supporto alla consulta, quindi noi ovviamente io anticipo anche che voteremo favorevolmente, grazie.